Una burrascosa lite culminata con una spinta purtroppo fatale. E' questa la prima ricostruzione fatta dagli inquirenti sulle cause che hanno portato alla morte di Giuseppe Ciancitto, 78enne di Paternò, impiegato postale in pensione. Poche ore dopo il ritrovamento del cadavere, su disposizione del sostituto procuratore di Catania Valentina Botti, è stata fermata la figlia 38enne dell'uomo, accusata di omicidio preterintenzionale. Come detto, secondo la ricostruzione i due congiunti avrebbero litigato violentemente. Lo scontro però ad un certo punto avrebbe abbandonato il piano verbale. Sembra che la donna abbia spintonato il padre con una forza tale da farlo cadere per terra e da fargli sbattere violentemente la testa. Nel frattempo, secondo quanto appurato dal medico legale, l'uomo avrebbe anche avuto un infarto al miocardio. Due circostanze queste che alla fine gli sono state fatali. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri intorno alle 16.30 in un'abitazione di via Catanzaro a Paternò. Già i primi militari intervenuti sul posto avevano subito accertato come l'omicidio fosse avvenuto in ambito familiare. Poche ore dopo il fermo della figlia di Ciancitto. Rimangono adesso da chiarire le cause della liteta padre e figlia che ha poi portato alla tragedia e alla morte dell'ex postino.